Allora, siamo venute al bar a mangiare un toast e non so perché ci guardano tutti. Secondo te perché ci guardano tutti? Ma non capisco, sono rimasta un po' male, pure io. Non ti sei lavata i denti, forse? No, no, li ho lavati, li ho lavati. Scusa, secondo te perché ci guardano tutti? Perché hai gli occhiali a puà. Ah, gli occhiali a puà, ragazzi, non ci avevo pensato, guarda, ecco perché ci guardano, era l'occhiali a puà.